Mi sono sentito di fare quella azione perché in quel momento mi andava di fare così e se tornassi indietro lo rifarei. Secondo me veniva fuori un bel gol, di testa, forse proprio perché dettato dal 3-0 mi è venuto di fare quella giocata, però non lo so se sullo 0-0 l'avrei provata o magari avrei provato a piazzarla. Nel primo tempo ho cercato molto di curare anche la fase difensiva, che il mister aveva insistito molto in settimana dicendomi di tornare e di fare la fascia e nel secondo tempo, essendo sul 2-0, ho cercato di fare qualcosa in più invece in attacco. Tra le mie caratteristiche c'è quella di saltare l'uomo e sabato, è andata bene perché l'ho saltato e mi ha fatto fallo, insomma era netto il rigore, c'era tutto. Sono contento comunque che il mister mi dia fiducia e spero di ripagarlo prestazione dopo prestazione. Non è che è cambiato qualcosa, secondo me è il campo che parla, se te vai dentro e comunque dimostri di poter giocare, perché no? Il mister comunque è stato bravo a darmi fiducia, quello sì. Mi piacerebbe affrontare le partite come le ho affrontate contro la regina, contro il lanciano, senza aver paura di nessuno. Secondo me se giochiamo come abbiamo sempre fatto, riusciamo a far bene anche contro il Sassuolo e lo Spezia, che sono due squadre molto forti per la categoria.